Stanchi di essere vittima dei ladri vedono una persona con fare sospetto nel giardino del vicino e si lanciano al suo inseguimento. Succede in piena notte in strada casale a Vicenza. Il presunto ladro è un pregiudicato 43 anni di origine serbe senza fissa dimore e con già a suo carico svariati i provvedimenti di espulsione. L'uomo, vistosi scoperto, ha cercato di scappare ma al suo inseguimento si sono lanciati alcuni residenti. Nel saltare una massicciata finisce tra i rovi e dentro un incavo di una canaletta in cemento rimanendo ferito. Le volanti, avvertite dagli inseguitori, lo troveranno poco dopo, lontano, dolorante. Accompagnato in ospedale per le cure del caso è stato denunciato per tentato furto.